Lucia Giness, lei lavora al diving, quella è la spiaggia in cui lei lavora. Esatto, adesso siamo a Peschiera del Garda e questo è il lungo lago dove il 2 giugno si sono verificate le risse, gli accoltellamenti. Lei che cosa ha visto? Allora, purtroppo noi stavamo sistemando tutta questa parte del beach club con il mio capo e c'erano come 2.500 ragazzi che facevano casino, urlavano, facevano di tutto. Erano come 500 di là e poi un paio più avanti dove c'è il posto libero nella spiaggia e si picchiavano, si rubavano tra di loro, urlavano e poi noi stavamo sistemando tutto cioè in un certo punto erano 500 di ragazzi che stavano correndo quindi mi ho preso il mio capo e ci siamo messi sulla rete che divide quella spiaggia dal campeggio perché veramente io ho avuto tantissima paura, mai nella mia vita ho visto una cosa del genere, mai. Quindi non era mai successa una cosa del genere a Peschiera? No, mai, 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 mai. Anche io ho lavorato, ho fatto la stazione dell'anno scorso per una cosa come questa, mai. Ed erano tutti giovanissimi. Sì, sì, secondo me da 14, 15 fino a 18. E poi loro, cioè li urlavano le polizie, a dei carabinieri perché loro sapevano che come sono menorini dei carabinieri non possono fare, non possono fare niente. E purtroppo, secondo me questo non accade di nuovo, non succede di nuovo perché adesso sono arrivati tutti quanti del comune di Castelnuovo di Vigarda e adesso la polizia sta girando tutto il tempo quindi secondo me non succede di nuovo però purtroppo è stata una situazione orribile perché noi abbiamo lavorato tantissimo tutto l'anno per portare avanti il posto. E mentre lavoravate vi hanno anche distrutto qualcosa? E noi stavamo lavorando, avevamo un tubo per fare i buchi, per mettere gli ombreloni e c'erano due ragazzi che ci hanno rubato delle mani questi tubo che è un tubo di acciaio non lo so alla fine che ha fatto lui Pericoloso Però è pericoloso perché cioè lui era, questo ragazzo era proprio fuori di testa Ubriaco Ubriaco è per, figurati con un tubo di fer, di acciaio non lo so alla fine che ha fatto però sicuramente non ha fatto niente di bene Grazie a tutti